Allora, abbiamo visto a Hamwich una sequenza. Io vorrei seguire questa sequenza e poi farò una conclusione, una discussione. Ma mi pare importante di vedere che la storia dell'alto medievo non è una cosa molto fisso, in un blocco merovingio, blocco carolingio. È una storia dell'archeologia che si indica una serie di cambiamenti socio-economici forti, con grande implicazione, per esempio, per l'Italia in questo periodo. Se io vorrei seguire la linea della costa, da Southampton all'est, c'è in sud-est Inghilterra, Kent. Kent, cioè il prossimo regno del West Saxons, era un regno di gran potere, dove sappiamo c'era un secco di grande importanza. Finora non abbiamo trovato un'emporia per Kent. Kent rimane una zona sconosciuta, forse perché ci sono tanti porti medievali, moderni, sopra questi possibili porti alto-medievali. C'è Sandwich, per esempio, c'è Dove. Sappiamo da Saint-Toon, un piccolo posto, c'era un beaching point. Saint-Toon era soltanto un posto dove chiaramente alla fine del VII, inizio dell'VIII secolo, c'era un punto proprio sulla costa dove erano parecchie cabane, parecchie persone facendo qualcosa, forse un commercio proprio sulla sabbia. Allora, Kent rimane una zona sconosciuta, ma più nord, a Londra, e qui siamo a Londra, abbiamo una storia molto particolare. Londinium era il famoso più grande città romana in Bretagna, sopra, appunto, il traverso, il Tamage, proprio qui. E qui c'è oggi San Paolo, St. Paul's, qui la città, si dice the city of London, è Londinium. E per tanti, tanti anni, gli archeologi inglesi pensano che non c'era proprio un emporio a Londinium. Non c'era nulla del VII, VIII, IX secolo qui. Invece, accanto alla Galleria Nazionale c'è un piccolo contesto. Poi in Ten Downing Street, nel giardino, trovato in 1962, un piccolo contesto di questo periodo. Poi al Chelsea, proprio accanto al stadio, sembra una coincidenza qua, c'è un'altra piccola concentrazione. Soltanto durante gli anni Ottanta, Alan Vince e Martin Biddle hanno scoperto London Vic così. E London Vic, dopo tutti questi piccoli sondaggi, e ci sono molti di più ore, London Vic è più o meno come Hamwich. Questa è una zona piena di edifici, Trafalgar Square, National Gallery, Royal Opera House, Houses of Parliament. Tutti questi famosi posti sono sopra London Vic. Ma con una sequenza di piccoli scavi si vede, prima, un piccolo cimitero del terzo quarto del VII secolo. Con esattamente lo stesso roba materiale che abbiamo visto a Hamwich. Secondo, stiamo trovando una città pianificata, ci sono pochissimi pezzettini di strada, ma c'è un'ipotesi di una strada, un sistema pianificato come quello a Hamwich. Terzo, si vede qua, un sequenza di costruzione, l'ultima parte del VII, un grande senito, un grande periodo all'inizio dell'Ottavo, poi un periodo terzo quarto dell'Ottavo, meno attività, poi questa fase fino all'Ottavo, inizio nono, e poi niente a London Vic, dopo più o meno 8-20, 8-30. E sappiamo che c'erano anche qua problemi con i vichini, ma questo London Vic non era, secondo tutti questi trancei, tutti questi scavi di emergenza, questo London Vic è stato assente dopo sicuramente 840-850. C'era quasi niente. Invece, il nostro grande paese, il nostro grande regno britannico, il nostro capitale, si cominciava qua, e c'è un grosso fresco illustrato vittoriano, ovviamente, illustrando che in 886, il grande Alfredo ha ripreso per i West Saxons, i Saxoni Ovest, Londinium, e sicuramente i scavi qua, accanto ai Tamage, illustrano il fatto che la nuova città, dentro la città romana, abbandonato, è parte dell'ultimo decennio, utilizzando una datazione dentro la cronologica, qua. Cioè c'è una crescita, un crollo, un gap, mind the gap, e poi c'è l'ondinium. E' molto interessante. Anche sappiamo, qua, da due punti di vista, che c'è anche altri punti accanto ai Tamage. Forse questi punti di concentrazione, come quello a Chelsea, un altro a Battersea, perché queste concentrazioni di attività, perché è possibile fare scavi estensivi, che queste concentrazioni, forse erano tenute di aristocratici del periodo dell'ottavo-nonno secolo. Soprattutto, questo è il grande mercato descritto nel famoso libro di Beda. Questa è stata chiaramente l'emporio del grande regno di Mercia. Era un punto sul Tamage per una rete che si estende in tutta l'Inghilterra centrale, the Midlands, sappiamo che i Mercians, questo regno, questi re, avevano parecchi palazzi e uno sicuramente è stato vicino a Londonwich. Cioè, abbiamo più o meno la stessa storia di quello a Hamwich. Questo sarà noioso dopo un momento, ma faccio un due o tre volte più e poi vorrei continuare con un altro tema. Ipswich è sicuramente l'emporio per East Anglia, per gli Anglians. E qui abbiamo proprio su Orwell, all'inizio, all'inizio del settimo secolo, con un cimitero qui, Hadley Road Cemetery, qua, un piccolo insediamento qua e un cimitero qua, Hadley Road Cemetery. Abbiamo nell'età di Sutton Hoo un piccolo indagine del stesso tipo di tomba, persone, amministratore che abbiamo visto già qui e poi qua, e questo è il punto fondamentale, un piccolo insediamento, forse la doppia di questa area qua, pieno di roba importata del regno, del Val del Regno e del Belgio. Cioè, nel 600-650 massimo, ma forse meno, 630, letta di Sutton Hoo, il famoso tumuli con le navi, scoperto 20 km a est da qui, abbiamo evidenza di un piccolo insediamento qua. Il primo fase, forse un beaching point. Sto utilizzando l'inglese per fare un punto, non so se c'è lo stesso in italiano, ma un punto sulla sabbia, sulla banca, dove si può prendere, dove si può mettere una nave senza una banca. Ho capito? E questo qua è molto importante. Poi si vede, alla fine del VII secolo, l'espansione. Durante l'VIII secolo, un'espansione enorme con questa zona qua, Cox Lane, e Wickham descrive questo in grande Italia, Cox Lane qua, qui in una zona piena di fornace, fabbricando una ceramica ben conosciuta, ben studiata, Ipswichware. E' una distribuzione in quasi la metà di Inghilterra con una concentrazione vasta in East Anglia, la regione di questo regno. Ancora, qui è più interessante, perché questo posto aveva l'arco, come ho già spiegato, ma qui c'è una fortificazione della fine del IX secolo. E qui, chiaramente, in questo posto, c'era una continuità fino ad oggi. E Ipswich Town è qua. La squadra di qui è fuori, in questo caso. Qui abbiamo un sacco di informazioni, ma qui c'era una continuità che si complica la situazione. A Norwich, dove abito io, c'è una situazione più piccola, soltanto un beeching point, soltanto un piccolo insediamento accanto al fiume. C'è un punto al nord di Norwich, Norfolk, dove si vede un altro beeching point. C'è un altro in Lincolnshire. C'è anche Iovic, York. A York si vede la città romana, a confluenza di due fiume, e fuori la città romana, qui non c'era Ipswich, una città romana, fuori la città romana, a York, Iovic, c'era un insediamento in Emporio del final settimo metà nono, in declinio prima dell'arrivo di vichini. E poi, come Londra, c'era un'uova città del final nono, dove c'è la città oggi. esattamente la stessa sequenza come Londra. Continuando, perché altrimenti sarà noiosissimo per fare questa sequenza di ogni posto in Europa. Ruon, qui, ci sono scavi illustrando il fatto che la città romana è stata riutilizzata come Emporio alla fine del settimo, forse prima, forse prima, e sicuramente c'è una continuità tra il nove e il diecimo secolo qui. non sappiamo se c'era un breve discontinuità, ma i scavi di Lemeo chiaramente illustrando il fatto che c'è una continuità in una forma o in un'altra. Qui, Quentovic, il punto assiale, Quentovic ora è vicino Montreux-sur-Mer, è una serie di campi in un palude, c'è niente lì, ma una prospezione di David Hill pubblicato in antiquity più o meno 86-88, Quentovic era più di 40 ettari. Chiaramente, prima, questo esisteva come un luogo, come un punto, non sappiamo le dimensioni, alla fine del VI secolo, cioè c'era qui una zecca facendo tremesis, cioè oro qua. Sappiamo, secondo punto, che vicino c'erano tanti monasteri. Tanti per il quiz, naturalmente, c'era una serie, un circuito di monasteri accanto e Stefan Lebec ha studiato molto il modello che questo Quentovic, perché sappiamo quasi nulla dello scavo, era proprio la proprietà di queste serie di vari monasteri in un circuito in un circuito vicino, accanto a questo emporio. E un secondo storico, includendo anche Lebec, e si può leggere Lebec in the long eight century, Lebec e un altro storico hanno offerto l'idea che Quentovic e forse Rouen erano fuori l'agnostria, cioè il regno Merovingia, cioè un tipo di no man's land dove c'erano, dentro, dove c'era un'amministrazione fatto di una coalizione di varie ente del periodo, soprattutto monasteri. Chiaramente di documenti, ma forse questi documenti ci offrono una visione un po' falso, questi documenti chiaramente illustrano il fatto che Quentovic era ricco nel settimo secolo, poi povero nel secondo metà dell'ottavo, non era tanto ricco durante l'inizio del nono secolo e poi aveva un ritmo più forte alla fine del nono secolo, cioè durante il momento critico per i vichini in questa zona, la mancia in questa zona qui. Questa è una cosa molto perplacente e sappiamo soltanto questo fatto dei documenti e la buonissima serie di monete cognato qua. Cioè la cronologia si può concludere era diversa di quello a Hamwich Londra Ipswich eccetera. Dorestadt qua. Dorestadt sta alla confluenza del Leck e del Rhein. è un sito tremendo è un posto molto interessante ora è un tipo di suburbio è un posto orrende ma c'è un museo di gran interesse e vi consiglio di visitare questo posto per capire bene per cui qui è un tipo di camacchio in un senso o in altro qui vicino a un sito romano c'è evidenza chiaramente ma poche di qualcosa alla fine del sesto secolo piccolo c'era un'attività qua c'era un'attività più o meno collegata al Merovingian North Sea ma non sappiamo le dimensioni cioè c'era qualcosa prima durante questa bractia prima durante questo arco dell'uso dell'oro e qui c'era un secco per questo secco facendo coniando questo oro durante prima metà prima settant'anni del settimo secolo cioè era un luogo forse un luogo piccolo ma non sappiamo precisamente sappiamo dallo scavo vasto di Vaness qui 10-15 ettori ma fatto con mezzi meccanici negli anni 60 anni 70 che qui c'era su il fiume una serie di meglio di illustrare una serie di banchine una serie di non è un wolf è un tipo di ma voi vedete quasi sentieri ma banchine di un tipo ma la dendroncologia di vari legni qua si illustra una sequenza dalla fine del settimo fino a più o meno 820 abbiamo questa sequenza così e abbiamo la stessa sequenza dentro qui nella sabbia naturale c'era l'uso di come si dice barrels anferi in legno botti botti abbiamo botti fatto di legno legno del regno centrale usato qua per pozzi e ci sono tantissimi e hanno fatto un collegamento della dendroncologia fra queste botti e questi e si vede lo stesso arco allora abbiamo una zona per i mercati e poi dentro proprio un villaggio una città di case grande con un'architettura vernacolare un po' diverso di quella nella zona e soprattutto da qui soprattutto da qui c'è un sacco di ceramica del regno centrale sacco tonnellate è una cosa impressionante questo era questo posto era chiaramente un antropo per la roba creata nel regno centrale allora c'è un histogramma qui sì questo è un vecchio histogramma ma grafica si vede questo curvo in cui c'è forse meno all'inizio del settimo in confronto con Hamwich è molto di più alla fine dell'ottavo inizio nono è ancora questo declino è molto chiaro qua in ogni senso cioè la curva è diversa di quello di quente diverso di quello di Hamwich o Londra ma è un curva con un sequenza queste monete un curva che illustra un sequenza di episodi come ho già spiegato perché qua questo è un gran dibattito fra i olandesi io non vorrei entrarsi ma ancora forse importante per Camacchio perché qua c'è una gran discussione che Durstadt fino alla fine del settimo e forse durante l'ottavo era proprio il cuore il punto di un tipo di mercanti i frisoni e i frisoni avevano secondo i storici tradizionali un'importanza una significanza particolare come i mercanti liberi davanti fuori il regno merovingio e all'inizio del regno carolingio cioè come i veneziani più o meno qui stiamo in un archipelago come Venezia si vede più o meno la stessa cosa però a questo momento più o meno alla fine dell'ottavo secolo inizio nono secolo quando c'era una vasta quantità di ceramica carolingia mi pare stiamo vedendo il momento in cui il regno carolingio in un forma o in un forma o in un'altra questa è la discussione in un forma o in un'altra hanno deciso di prendere di controllare bene questo punto forse non ho controllato come regno come imperatore ma chiaramente c'era qui una presenza di vari abate quello di Utrecht per esempio alla fine dell'ottavo inizio nono secolo e se tu vedi questa quantità di ceramica e vari tipi c'è la sensazione forse che c'erano monasteri come i grandi monasteri nel Val del Regno su da Colonia che avevano anche qui proprietà controlli erano in termini moderni stakeholders in questo in questo vasto posto urbanistico continuando si vede altri punti più piccoli del settimo ottavo fino a Highterbu al sud di Danimarca Ulan Jutland lì è chiara la stessa sequenza piccolo piccolo insediamento fino ottavo forse questo era Rerich il posto il piccolo città menzionato nell'anali di Franchi che aveva che era il punto di conflitto in 808 mi pare quando Carlo Manu ha deciso di mandare lì in armata con il famoso elefante per confrontare il re danese Godfredo e Godfredo e i suoi colleghi aristocratici hanno avuto un paura e gli aristocratici hanno ucciso il povero Godfredo questa storia prima storia quasi la prima storia di un danese in storia è un po' triste ma alla fine di questa storia triste chiaramente subito dopo secondo la dendroconologia e dentro c'è un fiume canalizzato e il legno è molto chiaro qui c'era una città pianificata con edifici edifici piccoli in confronto con quelli fuori vernacolare qui c'era un sistema di c'era un'attività commerciale e anche un sistema di produzione e poi un'grossa attività per la prima meta del nono poi un crollo seconda meta del nono poi un'reattività durante il diecimo prima di l'abbandono alla fine del diecimo per un nuovo posto Schleswig vicino Heiterbo la sequenza cioè è una sequenza di episodi così qui Riba questa è un'illustrazione sulla costa ovest di Jutland è forse l'esempio più interessante per gli italiani perché questo è pieno Danimarca non si può non si può trovare scusi per il fatto che questo è il territorio danese mi ricordo bene venti anni fa questo convegno ho menzionato ieri alla scuola danese a Roma dove quando ho parlato facendo un confronto con Danimarca e Italia c'era un rumore terrificante nel pubblico presente perché non volevano questo confronto ma il primo personaggio danese in storia è un certo Ongendus lui era duro come un pietra secondo le fonti del tempo cioè lui era un primitivo non era cristiano questa è la significanza ma in suo regno in suo periodo Ongendus fino a sappiamo quasi conosciamo quasi nulla su lui fino al settimo inizio ottavo a Riba abbiamo una un'emporia fatto forse cinque chilometri dalla costa con chiara illustrazione di tenamenti di queste proprietà è una zona a dietro dove c'era un settore che gli archeologi danesi pensano era tenuta per i bovini cioè un tipo di zona aperta per maneggiare i bovini che è stato preso è stato maneggiato è stato apportato a questo posto qua la dendronecrologia è molto chiaro c'è un insedimento della fine del settimo ultimo decennio cioè epoca di Ongendus poi che si continuava fino a più o meno 750 ma un arco così poi un periodo di assenza poi un altro periodo di grande attività ma forse questo esagerato non si sa finora all'inizio dell'ottavo secolo nono secolo all'inizio del nono secolo e poi una lacuna e poi la città del fino della parte finale del diecimo undicesimo la città medievale cioè vari episodi e chiaramente riba era un posto che esisteva con qualcuno facendo coniando monete più o meno un settecento questo famoso shutter del tipo mostro e chiaramente aveva contatti in queste due fasi episodi all'inizio dell'ottavo all'inizio del nono secolo con il regno c'è tanta ceramica proprio come quelli trovato a Durstad e questo è un è un gran che secondo me il libro più più interessante di archeologia medievale in confronto con Camacchio in questo di tempi è quello di Dagfin Schier S-K-R-I Dagfin che nome io vorrei cambiare il mio nome Dagfin oggi è un grosso nome Dagfin Schier di Oslo professore lì ha fatto un studio al sud di Oslo a Caupan e lì seguendo lo scavo di Charlotte Blintheim degli anni sessanta e rivisitando e ristudiando in un libro bellissimo pubblicato dell'anno scorso lui ha trovato una topografia dall'inizio del nono secolo soprattutto un episodio molto definato di un periodo forse uno due tre generazioni del nono secolo e poi c'era una fase finale vicino qua un cimitero di tumuli ricchissimi dove si vede un ricchezza a livello reale per finire una lunga storia molto interessante lui Skiar ha fatto un argimento che qui in sud est Norvegia abbiamo un tipo di colonia danese e questo era proprio un porto un territorio una zona sotto i nuovi poteri regni danesi appartendo una serie di rotti di possibilità in Norvegia che rotti che possibilità rotti linee per i mercanti andando agli isoli di Lofoten proprio il circolo artico dove si vede un viaggio fra qui a Toscano fino da Pisa a Creta da qui al circolo artico dove nelle Fulton Islands si trova a Borg un piccolo pezzettino di queste cose e da quel punto secondo Schia c'era l'opportunità di trovare mezzi dell'artico pelle per esempio e da qui vicino c'era c'era un'altra mezzo un'altra risorsa pietrellare per domani e si vede si vede in questo contesto questo contesto cimiteriale si vede anche del tesoro trovato qui il tesoro più ricco del periodo in Europa il tesoro Hon pubblicato l'anno scorso si vede che questa zona aveva contatti attraversando tutto il Baltico tutto il mare del nord e anche Danimarca e anche più sud il tesoro di Hon del 850 aveva monete islamiche monete anglosaxone monete carolingie e anche giulerie da Svezia eccetera era meschella di tutte queste cose illustrando il fatto che questi norvegi danesi a questo momento in questo periodo avevano contatti in tutta l'Europa allora tra Hongendus e in questo momento qua abbiamo un visione di un'Europa molto sviluppato finalmente e tutti noi quando stiamo cercando un punto di riferimento andiamo a Birka torniamo a Birka che ho spiegato ieri c'è se tu passi sul scagarà da Danimarca a Svezia c'è un punto si chiama Ohus scavato di Johann Calma ma forse è un piccolo Emporium e c'è un altro Ludocupin ma il grande Emporium senz'altro è Birka proprio nel centro su queste isole nel centro di lago di Mallory forse era un centro sul come si dice ice ghiaccio sicuramente ci sono come si chiama skates capisci per fare e ci sono migliaia da questo scavo e forse era un mercato creato alle fine del ottavo secolo e esisteva con parecchi fasi e episodi fino all'ultimo quarto del diecimo secolo ma durante il nono secolo nostro periodo di interesse qua c'era un'intensa mischella di roba dal Baltico di Est qualcosa di il mondo carolingio e Baltico Sud cioè mare e dimensioni della metà del Mediterraneo vasto qui c'era tutta roba di tutte queste parti con roba soprattutto roba islamica dirhem c'è anche molti pezzi di giulia eccetera 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 e poi questa mischella illustrando contatti forse un punto di un serie illustrando un serie di rette occupando il Baltico Est c'è poco pochi dal Baltico Ovest cioè da Birka fino Caupan e Riba in realtà contro Holger Hartman c'è una piccola proporzione del mondo franco mondo carolingio cioè stiamo vedendo un'attività vasto un'attività nel primo metà del primo metà del del nono secolo un' versione di Hightaboo un punto di interesse grande interesse per mia conferenza a maggio su Butrinto da qui nella metà ultima parte del diecimo secolo più o meno come Butrinto c'è un sacco di roba bizantina e nel cimitero ci sono tesuti bizantini perché qui c'è la preservazione che non esiste purtroppo a Butrinto ma si vede l'evidenza di un arco da Costantinopoli e Russia ovest Kiev fino la Doga all'est del Baltico fino qua a Birka purtroppo finora lo grosso scavo dell'anni 90 non è già pubblicato un scavo meraviglioso in cui si vedeva questi black earth questi terra nera in vari livelli rifuti in cui questi vichini erano sopravvivendo era un posto impressionante dal punto di vista archeologico e qui una mappa della topografia con questo sistema difensivo e il cimitero grosso vi consiglio se tu hai l'opportunità questo è un pezzo di paradiso archeologico questo è uno dei punti grandi nel mondo archeologico è un posto proprio meraviglioso allora io vorrei fra poco io perderò mia voce ma due punti e prima ci fermeremo primo punto perché non ho non ho illustrato tutte le evidenze bene francamente è difficile di illustrare questo ma io credo che stiamo ora vedendo una sequenza molto interessante prima dalla metà del sesto secolo nell'epoca di questa bractiaz fino più o meno la fine dell'ultimo quarto del settimo secolo c'era in Europa Nord tantissimi diversi punti sulla sabbia sulla costa dove c'era punto di scambi beaching points in Danimarca c'è stato c'era un studio di tutti questo e forse ci sono migliaia di questi beaching points con pochissime evidenze archeologiche salvo materiali come un focolare e poi un po' di ceramica e poi i piccoli chiodi utilizzati in navi del periodo ma è chiaro che c'era in questo secolo dalla metà del sesto sicuramente dell'ultimo parto del sesto secolo un crescita di punti di scambi sulle coste nord europee nord ovest europee e questi beaching points come santon come quello di ipswich come questi trovati in danimarca questi erano piccolissimi punti coprendo forse una fiera una volta un anno forse meno e non sappiamo precisamente il motivo ma se tu studi la geopolitica di questo mondo era un mondo di un tapastria cioè migliaia migliaia di piccoli regni tribù e si sembra se c'è una ipotesi con un certo direzione e si sembra che i merovingi cioè le re di i due grandi regni del periodo Nustria Ostrasia Nustria Parigi Ostrasia nel regno hanno aperto la possibilità nel mare di nord di un scambio su scala dimensione fra ognuno di questi piccoli territori sappiamo in Inghilterra per esempio alla fine del settimo secolo c'erano già all'epoca della costruzione di Hamwich c'erano almeno 30 tribù Wessex era più grande forse Danimarca è stato lo stesso forse l'area della zona nord di Durstadt è stato lo stesso e non sappiamo precisamente se la costa da Normandia fino Durstadt era un blocco di due tre stati due tre regni o varie piccole zone tribù occupando questo mondo molto configurato in maniera più come l'epoca di ferro questo è il primo punto allora quando c'erano questi cimiteri come quello di Hamwich quello di London wich questa gente questi amministratori queste wick garaffa sicuramente erano personaggi che hanno saputo i motivi di creare un flusso di flusso di commercio tramite i merovingi basati a posti luoghi come Quentavich cioè questi personaggi a Southampton a Hamwich e London wich avevano sicuramente nella metà del settimo secolo un concetto generale di un scambio di commercio da un posto Quentavich fino a Inghilterra prima forse su questo peaching point questi punti sulla sabbia cioè non erano gente con nuova idea avevano già concetti erano parte di un periodo in cui c'erano abati monaci viaggiando in tutta Europa viaggiando soprattutto a Roma cioè era un momento molto interessante questo è il punto secondo punto con il crollo forse non era un crollo dell'oro con il cambiamento a un sistema basato su argento più o meno 670 680 in quel decennio c'era un grosso cambiamento da piccoli punti parecchi a grossi punti aggregati come Hamwich come London forse come Ipswich come Rieber cioè sotto mi pare ma è un'ipotesi aperta finora forse per sempre ma io credo forse sotto l'impressione del sistema urbanistica Merovingia il re di Wessex il re di Mercia eccetera eccetera Ongendus lui come un pietra duro come un pietra hanno visto che potere dipende su il controllo a un posto fisso in maniera di un certo topografia con un certo ritmo della vita a un posto sui confini e hanno costruito le città nuove le prime grandi città medievale ma chiaramente è successo in un breve periodo da più o meno 680 710 massimo di questi trent'anni è forse un periodo molto più limitato poi si vede i diversi i diversi ritmi del secolo mezzo sequendo cioè all'inizio dell'ottavo un gran flusso di attività poi durante la metà dell'ottavo una diminuazione della situazione e poi alle fine dell'ottavo inizio nono un'altra crescita fortissima un' crescita fortissima di attività ma forse è questa un' ipotesi forse collegato con altre attività altre idee altri concetti fuori questi punti sulla costa questa è una domanda per domani perché sto perdendo la mia voce però prima di perdere però alla fine dell'ottavo si comincia nel Baltico il flusso vasto di soldi dirhem soldi arabo secondo dentro la cronologia di la doga stare alla doga in Russia cominciando più o meno 780 790 al Baltico est la doga è la prima illustrazione di questo flusso di soldi dell'arco nord al Baltico e qui si vede e che succede dopo dopo 20 anni io credo per vari motivi nell'anni 20 del nono secolo chiaramente Durstadt era in declino chiaramente Hamwich chiaramente Londonwich erano in declino e perché tutti volevano credere che questi posti grandi sono stati distrutti dai terrificanti odiosi vichini volevano questa storia etnica ma Klaus Ransburg 20 anni fa in Annals ha illustrato nel caso dei vichini questo grafico illustrando l'importazione di dirham poi la storia di di monete franca e monete anglosassone in questa zona c'è un grafico più o meno complementare cioè nel mondo Baltico quando c'è una diminuzione dell'importazione di soldi monete islamiche c'è questi soldi presi da varie razze nel mondo carolingio mondo anglosassone e lui aveva un confronto illustrando il fatto che c'era una fase di commercio vichino e poi una fase di attacchi vichini e poi un'represe e poi un'altra represe è una sequenza più o meno chiara io questo si funziona per il Baltico cioè al momento c'era un declino di queste risorse dell'est Baltico risorse del mondo abisidi c'era la bisogna nel mondo Baltico ovest di trovare mezzi e hanno trovato questi mezzi andando a Inghilterra a monasteri al mondo carolingio e prendendo in attacchi questa roba cioè monete franchi monete anglosassone e si funziona ma io non credo questo si funzioni così bene per domani troveremo rotte perché sto perdendo mia voce io credo che stiamo vedendo durante l'ottavo secolo in un posto come Hamwich come Londra un cambiamento dell'amministrazione di questa ricchezza un cambiamento nella mentalità economica parallelo a quello succedendo a Francoforte e in il mondo carolingio cioè io credo che si vede dall'inizio della fine dell'ottavo all'inizio del nono e qui la tentazione è ancora un po' schiaro non chiaro a quel momento io credo nel mondo anglosassone stiamo vedendo punti secondari dentro ogni territorio cioè punti dentro la regione dove erano scambi dentro la regione cioè punti attraversando un fiume punti vicino un monastero punti vicino un palazzo dove c'è una concentrazione di roba di questo periodo è la prima indagine di un città regionale a livello secundario di quello monopolistico sulla costa cioè e questo è un dibattito molto forte ora cioè stiamo vedendo un cambiamento da una città concentrata in un posto al primo passo a un sistema e uno ha un significato antropologico economico e questo primo passo ha un'altra significato questo queste indagini anglosazzoni sono già molto molto giovani non sappiamo tanto bene Franz Teos sta seguendo lo storico Adrian Vorhust l'archeologo Franz Teos sta studiando precisamente la stessa cosa nel mondo carolingio cioè l'origine del portus un città un posto dove c'era dentro una regione un mercato periodico fisso cioè un livello secondario di quello fisso sui confini Franz Franz Teos da Amsterdam pensa che questi posti secondari hanno cominciato più o meno 820 830 io ho un dubbio io ho dibattito con lui ma io devo leggere bene su argomento più recente in una una volume di Joachim Henning dell'anno scorso io devo studiare devo studiare bene questo ma sicuramente nella seconda metà del nono secolo lui sta vedendo un cambiamento chiaro cambiamento archeologico con la creazione di un secondo livello di attività commerciale cioè se io a regioni alla fine dell'ottavo all'inizio del nono il mondo del grande fase di questi impori ha passato a un nuovo sistema forse il sistema responsabile dopo il consiglio di Francoforte per controllare bene la produzione di monete per controllare bene con una rete un sistema politico economico l'economia di queste zone e mi pare non è una coincidenza che precisamente in quel periodo fino all'ottavo prima metà del nono che si vede grandi cambiamenti in Italia ma io vorrei suggerire e ho suggerito molto che i vichini allora da parte ricca dal fine del settimo secolo Danimarca Norvegia Sudesta era cercando non di distruggere un sistema ma di entrare e trovare i mezzi per sostenere il sistema che era un momento di grande cambiamento dopo cento quasi cento cinquanta anni di posti come Hamwich c'era una nuova rete una nuova constellazione un nuovo sistema politico operando per controllare i mezzi economici io mi fermo a questo punto domande chi vorrei fare un domande e domani traverseremo Europa e poi produzione domande e poi il quiz domani